Mettere insieme le forze, ognuno per quello che può, i tifosi, la società, i sponsor e le istituzioni. Solo attraverso una sinergia di questo tipo si possono tentare di fare le cose serie e fatte bene. Il messaggio del presidente Antonio Flora, l'ennesimo, è chiaro. Per rilanciare realmente il calcio brindesino e riportarlo a livelli degni della sua storia, c'è bisogno dell'impegno di tutte le componenti, istituzionali, sociali, sportive, a cominciare dal sostegno delle aziende del territorio, come ha fatto Sanofi, il cui marchio Zentiva comparirà sulle maglie del Brindisi. La partnership fra il sodalizio calcistico bianco-azzurro e il gruppo Sanofi è stata ufficialmente presentata a Palazzo Granafe in Ervegna, con l'intervento del sindaco Mimo Consales e dell'assessore allo sport Antonio Ingrosso. Sanofi era rappresentata da Marco Grespigna, direttore Zentiva e Off Patent, e da Giovanni Morelli, direttore dello stabilimento di Brindisi. Il presidente Antonio Flora sottolinea l'importanza della collaborazione con Sanofi augurandosi scenari soddisfacenti per tutti. La più grossa azienda mondiale farmaceutica non può che onorarci di questa attenzione che ci ha rivolta e di questo devo ringraziare il sindaco e le istituzioni che ci hanno messo in contatto con questa grossa realtà, credo anche imprenditoriale, Brindisina, perché c'è uno stabilimento qui. Io sono orgoglioso di far portare sulle nostre magliette questo simbolo. Spero che questo piccolo contributo sia solo un primo passo verso una collaborazione più ampia e che ci consenta di guardare con serenità al futuro e con tranquillità a quegli obiettivi che sportivamente spettano a noi. Poi se le cose andranno bene, ripeto, sono convinto che anche il nostro sponsor non potrà che essere disponibile, diciamo così, verso nuove iniziative. Presidente, è stato difficile perfezionare questo accordo? Ma la domanda non va fatta a me, perché io non ho potuto che accettare perché oltretutto sulla maglietta del Brindisi non siamo riusciti a trovare nessuno sponsor quindi avere da un lato un'azienda importante, dall'altro averne uno comunque non può che farci piacere, non dimentichiamoci che per due anni il Brindisi è stato senza sponsor sulla maglia. E questa è la strada che ci siamo prefissati ormai da tempo, cioè coinvolgere il sistema delle grandi aziende a sostegno dello sport Brindisino. Poi dobbiamo tentare di non farci male, nel senso di non mettere gli uni contro gli altri. Ricordate le polemiche quando l'Enel ha cominciato a sostenere il basket e magari non il calcio. Adesso l'Enel è nel basket e nel calcio. Il gruppo Sanofi ha deciso di puntare sul calcio, noi gli avevamo chiesto una mano per lo sport Brindisino. Siamo ben felici che abbiamo scelto proprio il calcio per iniziare questa loro avventura a Brindisi. Ovviamente, come ho già detto in un'altra occasione, dobbiamo coccolarceli adesso gli sponsor. Creare le condizioni perché gli sponsor possano trovare convenienza nella loro presenza a Brindisi sia sul piano dell'accoglienza e del rapporto con le istituzioni, ma soprattutto sul piano dei risultati che riusciamo ad ottenere dal punto di vista sportivo. Io sono certo che questa sia una buona annata per il calcio. Ovviamente dobbiamo tenere i piedi per terra e Sanofi sa bene che c'è l'impegno da parte di tutti a sostenere la squadra. Una mano allo sport locale che ne ha sicuramente bisogno, frutto dell'impegno e della presenza delle grandi aziende sul territorio. Sì, direi che questo passo di sponsorizzare il Brindisi Calcio con il marchio Zentiva è per il gruppo Sanofi stato un passo naturale, visto che siamo già presenti con una fabbrica che per noi è molto importante, che produce farmaci sia per l'Italia che per l'estero in importanti patologie. Evidentemente la scelta invece di Zentiva, che è comunque un marchio del gruppo Sanofi e che rappresenta tutti i farmaci cosiddetti generici o equivalenti, è altrettanto importante perché per filosofia di questo brand noi cerchiamo di lavorare sempre a contatto con il cittadino che poi è il paziente normalmente che utilizza questi farmaci anche per facilitare l'accesso alle informazioni riguardo il farmaco generico ed equivalente che come sapete è molto importante non solo perché è efficace ma anche perché dà un contributo alla economia e al portafoglio del paziente stesso che può accedere a farmaci più accessibili economicamente rispetto ad altri. Le posso chiedere qual è il suo sport preferito? Guardi, il mio sport preferito da praticante è la corsa. Io faccio mezze maratone, una volta anche le maratone. Come tifoso sono nella categoria di quelli che soffrono perché sono genoano e quindi ho i miei problemi. Però amerà Matri in questo momento? Amerò Matri e tra l'altro avendo abitato parecchi anni in Puglia per lavoro conosco bene anche le vicende del Brindisi, soprattutto di qualche anno fa quando era una delle più importanti del calcio pugliese. Speriamo di aiutare a ritornare tale insomma. Questo stabilimento è presente sul territorio da quasi 50 anni per cui direi una presenza importante sul territorio. Produce antibiotici su larga scala, parliamo di quasi 200 tonnellate l'anno e questo è un rapporto col territorio che si è rafforzato mano a mano che la produzione industriale è aumentata. Oggi produciamo quasi 200 tonnellate l'anno di antibiotico ed entrano, varcono i nostri cancelli ogni giorno, circa 230 collaboratori dipendenti direttamente da Sanofi più almeno altri 60 tra somministrati e ditte esterne in massima parte del territorio. Quindi un legame importante e ho sottolineato entrano nello stabilimento. In realtà adesso con queste iniziative lo stabilimento vuole uscire dai suoi cancelli e radicarsi ancora di più all'interno del territorio con delle iniziative che parlano di ambiente, sicurezza e salute soprattutto a 360 gradi iniziative che ci sono già state almeno circa sei mesi fa con un'iniziativa rivolta alle scuole secondarie di primo grado e che adesso si ripete con questa iniziativa dedicata allo sport, a Brindisi Calcio del quale noi diventeremo partner per questa stagione. Direttore, cosa pensa del rapporto di collaborazione fra le realtà produttive del territorio e il movimento sportivo in genere? Beh, io so che è molto attivo, abbiamo degli esempi molto interessanti. Noi ci proiettiamo in quest'ambito a partire da quest'anno e speriamo che sia profigua questa collaborazione e possa durare anche nel futuro. Noi andiamo avanti con il nostro progetto e abbiamo fiducia di aver fatto le cose con criterio e di aver non solo salvato la società e averla rimessa in un carreggiata ma portarla ai livelli che competono a questa città e secondo me lo faremo con l'aiuto di tutte queste componenti prima e fra tutti il nostro sponsor. Grazie. 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 Grazie.